Ciao a tutti e bentornati. Ottavo episodio di Wonder Boy the Dragon's Trap. Vediamo se riusciamo a rintracciare tutte le zone cosiddette nominate come l'ignoto. Prima di tornare al palazzo celeste e cercare di sconfiggere il Vampire Dragon. Allora, la prima che mi ricordo è quella sulla spiaggia. Di qua. Era anche quella, una delle poche che avevo fatto una volta, mentre l'avevo giocato su questo gioco l'anno scorso, qualche mese fa, su Xbox. Qui non c'era l'infermiera, ma qui c'è il primo ignoto che affronteremo. Allora, per fortuna siamo abbastanza coriacei a questo punto della nostra avventura. Perché non è facilissimo, sono zone piuttosto impegnative, come vedrete. E se non ricordo male, ce n'è una per ogni trasformazione. Vedete, anche farci colpire non è un problema qui. Il problema sono alcuni punti particolarmente ostici come passaggi. Sì, tipo questo. Vediamo se riusciamo a... Purtroppo... Ecco lì, appunto. Purtroppo, esserci fatti battere dal Vampire Dragon significa aver perso tutti i nostri oggetti speciali. Io spero seriamente... ...ho un boomerang... ...che... ...sia possibile tornare... ...ho un boomerang... ...fatti... Vediamo, hop. Fatto. Una andata. Uff. Dicevo, spero serenamente che il... ...qui sì, ci facciamo ammazzare così ci teletrasportiamo tra virgolette al villaggio. E magari... ...ci danno anche un elizir. No, niente da fare. Va bene. Adesso. Tra l'altro questa pratica potrebbe aiutarci a mettere da parte i soldi necessari per le ultime armi che ci mancano. Allora, adesso... Va bene, l'uomo falco. Andiamo nel deserto. Dicevo, io spero che sia possibile razziare nuovamente il tesoro a sinistra della piramide. Non tanto per i soldi, perché quelli sì, fanno comodo, ma più che altro per gli oggetti, perché, come avete visto, il palazzo celeste... Per il palazzo celeste il boomerang, soprattutto nella seconda parte, ci aiuta parecchio. Un boomerang che qui non abbiamo. Oh, che bello. Molto gentile. No. Vabbè, io qui mi sto dimenticando che posso volare, in realtà. Quindi, facciamo così, senza farci colpire, magari. Come vi dicevo, l'unica... Quella che abbiamo appena visto, sott'acqua, è l'unico livello dell'ignoto che mi ricordo di aver fatto. Gli altri sono totalmente una novità per me. Ne avevo fatto un altro, ma credo... Ma non ricordo dov'è. Che bello, volare così. Molto, molto comodo. Allora, i più attenti di voi avranno notato una strana transizione e che abbiamo oggetti diversi rispetto a prima, oltre a un numero di monete più alto. Perché ho dovuto rifare questa parte più di una volta e sto registrando... Cioè, sono già morto due o tre volte facendola e speriamo che questa sia una volta buona verso il boomerang. Porca vacca. Ok. Vediamo se riusciamo a distruggere con la spada. No. Molto bene. E neanche così. Va bene, abbiamo sprecato anche un fulmine. Ahia. Ok. Ripeto, siamo abbastanza coriacei quando gli attacchi nemici, però non così tanto. Ok, questo ci può servire. Ok. Coricina. Sì. Un'altra freccia. Coricina. Ok. Ok, è un'altra freccia. Ok. no 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 non è difficile battermi questi nemici cazzarola Una chiave? Ah, ce l'abbiamo fatta forse? Dai Andiamoci, andiamoci Yes, E2 E anche stavolta ci facciamo ammazzare Sì, è troppo lungo tornare indietro Magari una pozione? No Va bene Adesso ci rimane quello Che si raggiunge sott'acqua sempre dal deserto, però ci serve il leone Eccoci qua Tra l'altro abbiamo lasciato anche il negozio sopra qui raggiungibile solo col topo Andiamo Andiamo Grazie Grazie Eccoci qua Eccoci qua, vediamo se con la spada riusciamo a uccidere il nostro... perfetto Ops Andiamo Il granchietto saluta bene, molto bene, visto che questa è una zona che non ho ancora mai fatto Ed entriamo Quindi solo L'ho trasformato direttamente in... Un cerco Ok Dobbiamo ricordarci che non abbiamo lo scudo, quindi... Punto E' che essendo abituati ad andare spavaldamente contro le brecce Adesso che siamo senza... senza scudo Un po' diverso Ok Però devo dire che non mi posso lamentare del danno fatto dalla fiamma di... Nel nostro... ahia 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 Eh, però anche loro ci fanno piuttosto male, cazza roba Frecce Uh Cosa serve per sbloccare quelli lì? Ok Ok Scriviamo No, 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 non voglio bloccarlo Ottimo Un cuore no, eh, non c'ho danno Allora, qui Non ci sarebbe Ah Un cuore... Ah Ho capito Dobbiamo evitare di distruggere blocchi Quindi, possiamo farci dare qualche bonus Niente No Vabbè, però forse se li studiamo solo qui... No, no, basta Facciamo Per farmi un cuore Finché possiamo E' un po' tricky questa parte, eh Guarda che volevo fermare fuori, ma... No 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 E' un po' Dove Ok, vediamo se... ok 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 Forse ci basta Dovremmo arrivarci... No, basta Uff Noiozetta questa... questa parte, eh E vabbè E vabbè Ok 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 Potrebbe andare bene così Potrebbe Vediamo Uff Ma fa il culo Nooo Non ci arriva Niente Quella piattaforma io la dobbiamo lasciare intatta totalmente Possiamo permetterci di... no, non questo Di distruggere quest'altro, ma... La seconda piattaforma deve rimanere integra del tutto A meno... eh sì, vabbè Magari si riesce ad arrivare da quell'altro che è un pochino alto, però... Se li distruggiamo entrambi direi di no Vabbè Sì E' un feeling strano questo tipo di platforming qua No, 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 no Vabbè Sei vicino Questo livello è particolarmente corto e facile, devo dire Però... Questa parte è veramente noiosa Vediamo se per caso ci bastano queste mattonelle No, 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 no Ok, vediamo di non distruggere questo No Questo è infame, eh, come... Come level design Vale Andiamo a prenderci il cuoricino E' fatto bene perché... Siamo obbligati a usare... Il drago Anzi... Il... La lucertola Ma... Piuttosto infame, niente Se ci avete giocato sapete... Il... Il... Conoscete il feeling di... Quando il protagonista... Il nostro eroe viene... Sbalzato dalle frecce Ma forse può bastarci... No, così non più Niente, sprechiamo tutto, va bene Ok... No... Vediamo se per caso... Ecco, volevo evitare di farmi colpire ma... No... Io ci provo, eh, però... No, infatti... Questo è qui un test di pazienza... Che non di abilità E intanto... Ci prendiamo i soldi Ehm... Ehm... Forse... A, dai... Vediamo se... Si riesce ad arrivare a quel... Locco da lì... Sì... Sì... Uff... Fatto... E adesso... E adesso... Ci facciamo ammazzare... Dalla nostra amica piantina... E così... Torniamo al villaggio... Magari con una pozione... Magari con una pozione... E invece no... Va bene ragazzi... Direi che questo episodio è durato anche abbastanza... E voi non sapete quanto ci ho messo a registrarlo... Quindi... Cerchiamo le altre pietre la prossima volta... E... Vediamo di capire come recuperare un po' di equipaggiamento lasciato indietro... Ci vediamo al prossimo episodio... Ciao!